guarda qui la maglia rossa come bella guarda come facciosa addosso a me quanta gente che darebbe chissà che cosa per aver la maglia rossa sempre così che è il cuore del nostro segno da qui noi controlliamo tutti i vulcani attivi della sicilia l'etna lo stromboli l'isola del vulcano anche l'isola di cartelleria e in più le due zone sismiche più importanti d'italia cioè i monti blei il sud est la sicilia e i perolitani la zona domessina sono le due zone sismiche che purtroppo danno i carremonti di maggiore magnitudo in italia cioè più alta di 7 nella scala di cartella 7 a 8 quindi vi presento un attimino la sala operativa com'è combinata c'è una parte visuale con delle webcam delle pregate il controllo letto sia invisibile che con il termico cioè i colori che vedete sotto sono falsi colori che ci danno la temperatura di ciò che noi stiamo vedendo e questo ci aiuta moltissimo perché serve per capire se il vulcano anche di notte magari sta facendo qualcosa c'è un'attività che è con emissione di calore quindi può essere una clappellava può essere un'esplosione può essere del gas caldo noi lo registriamo e eventualmente parte un allarme che ci segnala che c'è un problema sull'etna poi naturalmente la parte sismica che fa la parte del leone insomma questa è una selezione delle stazioni sismiche che noi abbiamo piazzato nella Sicilia orientale ogni colore definisce una zona in rosso la parte sommitale dell'etna in giallo una selezione delle stazioni dell'etna ne abbiamo più di 60 solo sull'etna in verde appunto la zona degli blei la Sicilia sudorientale in viola la zona del messinese i peloritani in questo azzurri minone isole olie e quindi noi abbiamo uno sguardo sulle principali stazioni sismiche che ci dicono cosa sta succedendo in questo momento nelle nostre varie aree sotto monitoraggio il segnale sismico soprattutto nella zona dell'etna in alto viene usato non soltanto per vedere se ci sono terremoti e localizzarli in tempo reale cosa che facciamo con il nostro software fatto apposta ma grazie al tremore vulcanico che viene diciamo misurato pure da queste stazioni cioè l'ampiezza di questa linea di questo segnale sismico cioè in questi casi ci sono momenti in cui è un po' più ampio un po' più panciuto vuol dire che c'è un scuotimento di alta frequenza del vulcano che si chiama tremore vulcanico noi prendiamo questo valore lo mettiamo su questi altri grafici e abbiamo nel tempo l'andamento dell'ampiezza del tremore perché il tremore vulcanico è un parametro fondamentale il suo aumento soprattutto se netto precede le eruzioni dell'etna di ore se non di giorni quindi uno dei tanti parametri importanti fosse uno di quelli più importanti a breve termine infatti vediamo per esempio che in quest'ultima settimana il tremore del ventre si sta un po' alzando va tendenzialmente a crescere è un segnale che del magma nuovo sta arrivando verso la superficie all'interno del vulcano grazie a questa situazione, grazie al segnale digitale noi possiamo anche visualizzare la sorgente del tremore vulcanico in questi grafici abbiamo una mappa dell'etna e due sezioni, due profili dell'etna stesso uno est-ovest l'altro nord-sud possiamo cioè vedere quasi in 3D la posizione della sorgente di tremore come vedete in questo momento questa è la mappa dei crateri subunitari è molto prossima al crateri sud-est che è quello che ha fatto le ultime eruzioni quest'anno e che molto probabilmente sarà quello che fanno la prossima eruzione quindi in questo momento la sorgente di tremore, il magma che degassa sostanzialmente chiamiamolo così, è posizionata in corrispondenza del crateri sud-est qui naturalmente abbiamo anche le classiche mappe che ci permettono di localizzare in pochi secondi i terremoti che avvengono nelle nostre aree di competenza questa è l'etna, vedete c'è stato un terremoto in 5 il tango l'ultimo che abbiamo registrato nella zona dell'etna di magnitudine 2.1 eccetera eccetera in questo modo in pochi secondi possiamo fornire alla protezione civile i parametri di base che ci descrivono il terremoto che è avvenuto poi abbiamo una mezz'oretta per raffinare un po', per diciamo affinare la nostra precisione e dare una localizzazione, una magnitudine ancora più precisa quest'altra mappa che è la mappa dell'Italia ci dice invece quali sono i terremoti che sono avvenuti sul resto del territorio nazionale ed è una mappa, diciamo un software che viene gestito dalla nostra sezione di Roma è quella che è preposta al monitoraggio sismico di tutto il resto dell'Italia e noi come Catania ci interessiamo per fare l'etna, per fare le orie, in Brei, in Mauritania, in Sicilia orientale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.